Muore sto prete di muore sto prete e l'arcivescovato fa oh ragazzi qua bisogna che troviamo un altro prete per rimpiazzare e fa vabbè prendiamo un altro prete e allora vanno a prendere uno di campagna e ne vanno a prendere uno di città il giorno che segue gli fanno una prova li chiamano tutti in chiesa e gli mettono quattro figure sull'altare gli mettono Gesù gli mettono il maiale gli mettono la razza, il pesce e gli mettono Benel Rodriguez parte il primo con di città e l'arcivescovato gli fa mi spieghi queste quattro figure ah guardi semplicissimo Dio nostro signore è sceso in terra ci ha dato tutto poi parliamo della seconda figura del maiale non si spreca niente, non si butta via niente del maiale ma però e la terza figura la razza, semplicissima moltiplicazione dei panni e dei pesci gli fa ma donna senti che bravo che l'estutoso parte con l'ultima figura gli fa e l'ultima ah il diavolo fatto in persona non so poi neanche a vederla bravo gli fa vada pure le faremo sapere questo esce entra quello del contadino di campagna e gli fa il contadino di campagna il contadino di arcivescovato salve che fa buongiorno signore buongiorno mi spieghi queste quattro figure che ci sono sull'altare ah guardi qua guarda due minuti che sbagli due minuti che faccio tutto mi fa dai sentiamo allora parole povere che fa Dio porco carassa di figa Dio 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 Dio